Burloni, oggi su Minecraft è tornato il momento di trollare i miei amici perché oggi gli farò credere che faremo una normalissima speedrun ma loro non sapranno che ho dei comandi super belli da utilizzare tra i quali lo slash invc nel quale potrò guardare il loro inventario e rubargli pure le cose se volete altri troll fatemelo sapere con un mi piace superiamo i 30.000 mi piace e se non siete ancora iscritti è gratis farlo vi lascio 3 secondi 1, 2 siamo pronti per iniziare vai sii vola iniziata, 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 iniziata no, 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 senza via senza via non si può iniziare ragazzi tante volte non bisogna iniziare allora il seed ce lo siamo semi studiato sappiamo che è quasi un god seed perché ci sono le fortezze, i bastoni semi vicini può servirti, può servirti sempre diamine nico mi stai riempiendo l'inventario porca, 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 porca paletta porca paletta, nico porca paletta porca paletta io ho bisogno di un po' di cibo però quindi farò eh, prendilo il cibo ma stai tranquillo bravi, lo spawn point perché si può morire si può morire si può morire è una speed run ragazzi non è una caccia all'uomo è una speed run ok io ragazzi sono già in miniera dai tu vai in miniera sono in miniera per per non vince la partita dai ragazzi come si fa di barrel non te lo dico con tre di legno adesso tre di legno a sinistra e una slab sopra una slab sotto no te l'ho fatta no vabbè io predo golem e dai e che capperi diventa mio amico dai tuo amico devi diventare mio amico a me ci metto più a fare sto secchiello che boh io ho preso il golem sto già facendo secchiello già pronto io sinceramente se fossi in te nico mi sbrugherei eh ma non mi danno un secchiello questi ragazzi eh buonanotte nico i lati li avete presi no chiedo per un amico non li ho presi io si ah ah non li ho presi raga non li ho presi non li ho presi cioè non so ah già come si fa raga senza lana delle pecore ah lana delle pecore vero va bene un po in realtà dai otto pezzi vabbè vengono due otto pezzi super mega easy quindi direi che direi che ci piace come cosa ho trovato i diamanti raga cioè ho trovato dei super mega diamanti assurdo io ho un letto non riesco a farmi dare un cavolo di borrello sono quasi morto non più chiama di che poi ti odio sono caduto nella lava ma di mi son salvato ma di mi cd villager no ma di ma di ma di ma di ma di ma di allora adesso vado giù anche in caverna bravo giusto che sia così oh secchiella sì ok facciamo così facciamo così raga io sto già per fare il mio mitico portale guarda che bel portalito che ho fatto ma di già pazzesco di già siamo già a 4 minuti eh guarda che i migliori speedrun mica ci mettono così tanto ma io non le faccio da un po le speedrun sai ma se le abbiamo fatte settimana questa sì ma le fai tu le cose io di solito do fastidio hai ragione hai totalmente ragione ma io ti posso dire che sono nel nether sono nel nether sono ufficiale sono ufficialmente nel nether io ho appena crattato il pane pensa un po vabbè che dire mi sembra mi sembra ideale ok ok vado per vado a cercare ragazzi bastione dove vado vado più più o vado meno meno più o meno o vado meno più o meno a destra meno più a destra bene ragazzi mi son mutato un attimo l'obiettivo è barare un bot come ben vedete sto facendo la speedrun in creativa e sto rubando a loro le cose tramite il comando slash invc ragazzi questa cosa è incredibile per adesso non si sono accorti ancora di niente è assoluto sfidato che mi aiuta a fare le cose il mio assistente fortezzina cari è un po' lontana purtroppo ragazzi quindi ci metterò un pochettino ragazzi è successo qualcosa di particolare e cosa è successo ho del pane ho del pane nella chestplate e dell'eBay nei piedi come? non lo so che stai dicendo ma non è uno scherzo ha sparito l'axolot ve lo giuro era qua due secondi fa allora anche a me allora raga non è uno scherzo raga mi è sparito l'axolot dai raga io avevo il piccolo in pieta prima nel primo slot dell'inventario me lo sono trovato nei piedini ma non l'ho detto perché pensavo di essere stupido ma che cavolo va bene va bene ma il povero Axolot dove è finito ora? ma guarda che magari è un bug ma povero Gianfranco provai a piazzare il secchio non c'è proprio il coso ho dovuto rifarlo il secchio e no è sparito forse l'ho buttato nella lava mannaggia a me ero quasi più a portare ma guarda che anche ieri nella Big Vanilla tipo avevo un pezzo di smeraldo l'ho toccato ed erano due prova a vedere se no raga non c'è per tutto non ho preso dell'altra acqua nello slot vuoto devi guardare quello che tu hai vuoto se tu ci clicchi tecnicamente ti appare se era lì io ragazzi sto ammazzando i Blaze ma è un casino ma si vai ammazza pure i Blaze non ti preoccupare sai quanti ne ho uccisi? tipo 15 e non mi ha droppato neanche una blazer vabbè se vuoi ti dico la fortezza tanto meno 150 meno 150 interessante questa cosa che ho trovato io sono a 3 cos'hai trovato cos'hai trovato ho trovato un portale già costruito devo costruirlo io al mio portale se entri dal mio portale ti ammazzo oh ma è tutto l'axolot che si raga è ritornato gianfranco ciao perché si chiamano tutti perché io voi tutti chiamiamo tutte le persone franco perché non chiamo tutti franco gli sonveni da varie via 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 sto qua lascercare mamma mia dio sapevo che dovresti andare sul sulletto ero qua che ti stavo aspettando mamma mia scappò io sono nella fortezza ho trovato lo spawner di Blaze Io ho un bastione fa anche il portale mi sa Sì sì quello era vicino Mi ricordo proprio quando mi ero studiato Tutto che era lì Vabbè non c'ho più piccoli Io ho preso la prima blazerod tranquillo non ti preoccupare Va bene così Io ho il piccolo in mano pronto per prendere le cose E nei miei piedi ora Va bene Io sai quanti ne ho Quanti ne hai? Sai quanti ne hai di blazerod? Quanti ne hai? Due Come due? Due e mezz'ora che sto cercando di prendere i blazerod Due Non si deve uccidere Bardi ok? Posso? Ma cosa è sta roba? Posso? Ma fai quello che vuole Digni no Posso posso stringerti la mano e dirti cose che non fa Perché il mio piccolo è diventato di pietra? Va bene Ma che cavolo Allora io sono full ferro No full oro Full oro? Beh dai E ascolta il bastione offre questo Noi accettiamo Vabbè meglio di niente no? Io invece piccolo No 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 vandi sopravvivi vandi sopravvivi vandi sopravvivi vandi 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 Il panino ok Ma ragai ho perso di nuovo Non ho più i letti Ho visto super beh Stavo guardando lì Ok ok Mamma mia Quattro blazerod Quattro blazerod Non riesco a respirare Io sto cliccando tutti gli slot Per capire dove è finito il piccone quando lo trovo Vabbè Nico ma non è importante che tu cerchi il piccone Ok eccolo A posto Comunque io Una palla di diamante sii Guarda si che sono realizzato nella vita Ma una palla di diamante Si ma anche della nederite Poi la prendo Posso? Posso averla per favore a nederite? Ma scusa ma ci puoi sentire un tipparci da Nico? No Massi ti piamo No raga vi uccido No vi uccido No non vabbè Ah non chiaccio la E Mi ammazza Ammazza tutti Fai chiaccio la E Fai chiaccio la E Così lagga tutto Faccio io Ma ti è morto Dai ma mi avevo riuscito Oh mio dio Ma da Marci was in by Oglin I pima da Marci Ma ti sei rubato la mia roba A me ma senti ma qua è pieno Ma sei un cheater schifoso Sono in un mare di lava 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 Ok devo nuotare Semplicemente devo nuotare Mi ha tipato tutti i culi Io non ho parole veramente Io non ho più parole No no dai io rinizio a prendere il legno e tutto Ma come da capo Ma come da capo E beh raga Non lo sapete Ma questo video è particolare Secondo me hai dei problemi No Quello è Land Land è strano Land è stranissimo E' qualcosa che non potete immaginare A qualcosa in più E' speciale Sì Sì esattamente sì Vabbè io mi faccio una accetta Non si sa mai Un certo è piccone Game rule set combat feedback true Questa è la particolarità? Sì Ok E questo tipo invece? Sì Particolare anche quello Sì 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 Ma io mi reputo sconfitto E quindi vi aspetto qua Qua dove? Ah basta far così Nico guarda No 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 Quello sono le coordinate 104 Tipi il ball di Nico No 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 Giocate seri raga Chi vince tra di voi vince Cioè Ma quello scusami il più vicino davvero? Sì È a tipo mille blocchi Dai su raga Però basta Siete lentissimi Eh io non mi tipo sai Esatto insomma Tipi Che ce l'hai Marci No Che ce l'hai Io sono vivo Perché ci sono dei cavalli scheletro? È proprio bella Grazie Anche io ho scegliato il primo Che io ho persogliato Ma prima Maggi Perché non è partito Non è partito Ma scusami Ha messo l'ultima fatta così Nico guarda Ha messo l'ultima fa Nella lava Ma non vale Ma perché l'avrò messo dal contrario Marci Sono primo A venta Allora adesso c'è La cosa che non sapete Prego Ci siete? Aspetta un attimo No Mi sa che ti provo in serio Nel pvp Tutto bene? Dove siete raga? Aspetta un attimo Che non ci deve fare Sto cercando di continuare A leftare E di entrare Per chi non la Era in creativa Quando aveva colpito Non era in creativa C'è il bod Vai via Oh scusa Tipati Posso Tipati Tipi Vai 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 Nico Vai uccideri Non ho i netti Miliano Non ne ho più Ma perché ci sono due draghi Perché ci sono due draghi? Perché c'è una cesta Adesso io Continuerò a tifarmi Perché continuo a volare? Ragazzi nella cesta Ci sono i glow berries No Io adesso sono i spectator Basta Eh vabbè I draghi continuano a volarmi addosso I glowing squid Che bellini Ragazzi ci vediamo in un prossimo video Da Marce è tutto Ciao a tutti Nunca fa esquivo Ciao a tutti 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 Ciao a tutti